Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo, tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52, a Salerno. Sebbene in tanti siano già stati sanzionati, ormai da tempo con grande insistenza si prova a sensibilizzare la cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti, sono ancora numerose le persone che a cava dei tirreni trasgrediscono le regole. Così, nel corso della mattinata di giovedì 24 marzo, ad esito della scrupolosa ispezione interna 89 buste e bustoni, ricolmi di rifiuti indifferenziati, che è stata svolta in diverse zone delle frazioni San Pietro e Annunziata, dal nucleo degli ispettori ambientali volontari, con il supporto degli operatori della Metelia Servizi, sono state riscontrate quattro violazioni, che si vanno a sommare 69 verbali già elevati dal 1 gennaio ad oggi. Nello specifico, in questo caso, sono state sanzionate tre utenze domestiche ed un'utenza non domestica. Inoltre, senza rinvenire elementi indizi a ricerti, in alcuni punti di raccolta, come quello alle spalle del campo di calcio di San Pietro, è stata riscontrata una massa informe di rifiuti, fra cui calcinacci, che giace a terra da ormai troppo tempo e che si rende necessario rimuovere. In via Carmine Consalvo, all'angolo con via Alfonso Adinolfi, sono state rinvenute invece scarpe, numerose bottiglie di birra, indumenti e tant'altro ancora. In considerazione di ciò, nella nota diramata dal coordinatore degli ispettori ambientali Livio Trapanese, viene posta in risalto l'esigenza di rimuovere tutti i carrellati dalle strade, e passare ad altro metodo, che è quello del porta a porta o della distribuzione di buste e bustoni muniti di codice a barre. Non viene oltre trascurato un altro aspetto, ossia che i rifiuti giocenti a terra, con una considerevole massa di alimenti, fanno proliferare la costante presenza di cani e gatti randaggi, ma soprattutto di topi.